Le luci della ribalta della MLS non bastano allo Spice Boy, che punta decisamente ad una convocazione nella Nazionale Olimpica Britannica a Londra 2012. Beckham, con 115 presenze nella Nazionale Inglese, ha parlato durante una visita a sorpresa ad una scuola nel nord di Londra, dalla sua ovviamente l'ampia esperienza internazionale, cosa che potrebbe convincere il tecnico Stuart Peirce a dargli una delle tre maglie per i fuori quota. Rappresentare il mio paese è stato uno dei momenti più belli della mia carriera di calciatore, una delle cose che mi hanno reso più orgoglioso. Essere il capitano della Nazionale Inglese è stata una delle vette della mia carriera da giocatore. Giocare 115 partite è stato un vero onore, ma vorrei continuare a rappresentare il mio paese anche alle Olimpiadi. Beckham ha poi definito ridicole le accuse di poco entusiasmo da parte del pubblico per le Olimpiadi. Secondo lui i giochi olimpici ispireranno una nuova generazione di atleti e l'onda 2012 si sarà resa indimenticabile dalla proverbiale passione per gli sport degli inglesi. So che si parla a mucchio dei biglietti venduti, di come i londinesi non siano affatto interessati, ma nel nostro paese è impossibile non essere appassionati ad ogni evento sportivo. Ho visto negli anni con l'Inghilterra come i nostri tifosi ci seguono ovunque, quanto siano appassionati. Quando metti così tanti atleti splendidi in una sola città, l'interesse ci sarà per forza. La Nazionale Britannica spera in un Old Trafford pieno in ogni ordine di posto il 26 luglio, quando inizierà il torneo olimpico contro la rappresentativa del Senegal.